Ciao ragazzi, apro questo vlog dal mare. Allora, che dirvi? Tutto bene? Noi tutto bene? Stasera qui da noi ci sono lo street food. Non venivano da quando è nato Alessio, quindi da sette anni e mezzo. Si raccolgono una ventina di specialità, da quel che ho capito. Non ho capito bene, però vogliamo andare a dare un'occhiata stasera, quindi ho deciso di fare questo vlog. Adesso è pomeriggio e stiamo al mare. Spero che sentiate la mia voce, perché praticamente c'è un botto di vento e io sto in prima fila, quindi il vento è ancora di più. Teoricamente dovremmo stare in quarta fila, ma il proprietario dello stabilimento ci ha detto che possiamo stare con i lettini in prima. E per me è molto comodo, perché guardate, Elena ce l'ho proprio di fronte, quindi io mi allungo sul lettino, almeno mi riposo un po', però posso anche guardare Elena. Invece dalla quarta fila è un po' difficoltoso. Il proprietario è molto bravo, quindi ci ha detto che potete stare. E niente, sono le cinque più o meno, abbiamo mangiato qua al mare. Adesso però vado a casa, perché alle sei viene la parrucchiera a farmi la tinta, che non mi faccio la tinta da due mesi e si vede. Ho deciso io di allungare un po', perché preferisco che mi si vedano un po' i capelli bianchi, però almeno preservo un po' il capello. Quindi vado a casa, mi faccio la tinta, ci facciamo le docce e stasera andiamo a piedi, usciamo verso la strada dello street food per assaggiare un po' di cose. Vediamo un po' che cosa ci sono, che cosa c'è, specialità che ci sono e che cosa possiamo assaggiare. Ho visto che c'è lo stand della pizza fritta e infatti io la vado. Mi vado a mangiare una bella pizza fritta napoletana. E poi ho visto che c'è lo stand della Sicilia. Alessio? No! Alessio no! Smettila! Alessio spinge la sorella in acqua, no! E niente. Eccomi qua, siamo a casa, mi sono appena messa la tinta in testa e devo aspettare mezz'ora. Una ragazza che è appena andata è una ragazza che lavora in negozio e viene a mettermi la tinta con i prodotti del negozio ed è un'amica da anni ormai. E niente, quindi sono andata, aspetto mezz'ora, mi lavo i capelli e ci andiamo. Eccomi qua, tinta fatta, shampoo fatto, capelli lavati, l'ho asciugato di poco poco perché fa caldo. Ci vestiamo e usciamo. Andiamo, vamos, vamos Elena! E andiamo, andiamo. Elena, qua mi devi dare la mano. Guardate qua, con la sua borsetta. E andiamo. E siamo arrivati. Hai visto Elena? Allora, questo si chiama pacco iberico e fa tutti i panini. Invece questo fa tutti i guappi. Quindi pesce fritto e baccalà. Questi fa tutti i carne di scottona. Questo fa, non lo so, tutte olive, boh. Tiramisu. Spaghetti. Carbonara. Questo è buono, secondo me. Bullard pork. Questo è buono. Pollo fritto, patatine. cocktail. Cocktail. Ah, questo fa i dolci. I dolci artigianali. Questo fa tutti i fritti. Eccoli i burritos. Eccoli i burritos. Sì. Pizza fritta. Io sono venuta per questa. Panatine o dog. E questo è lo stand spagnolo. Paella. Supplì, patatine. Empanadas. Ah, qua ci sta pure. Qua fa il caciocavallo. Bobbetta pugliese. Poi il polpo alla grama. Questo piace a te. Il polpo alla griglia. Ah, tutte quelle pizze. Buone. Eccomi. Amore, ci puoi prendere l'acqua lei. Niente, non ho filmato più niente perché poi si è unito anche un altro ragazzo, un ragazzino. Non ho potuto, ragazzi, scusatemi. Comunque abbiamo assaggiato un bel po' di cose. Infatti sono andata a casa. Guardate il mio stomaco. Adesso stiamo facendo la strada di ritorno, sempre a piedi. Pietro ha detto che vuole andare a prendere un gelato. Tanto ormai ci stiamo stasera e ci andiamo a prendere un gelato, uno yogurt. Vediamo un po'. Buongiorno, giorno dopo. Allora, ieri non ho filmato più niente perché in poche parole possiamo andare a prendere un gelato. Era notte. Elena era proprio completamente esaurita ieri sera. aveva caldo, quindi stava schelerando. Poi siamo tornati a casa e mi sono addormentata. Non ho filmato più niente perché abbiamo incontrato anche altri bambini ieri che poi abbiamo mangiato insieme, quindi era un po' difficoltoso riprendere. Comunque abbiamo assaggiato un bel po' di cose. Bello, bello. Poi a me piacciono queste cose di street food. E niente, quindi questo video termina qua. Io adesso sono andata al Conad a prendere il bottino, i panini. Aspettate che prima attraverso, se no mi arrotano. Grazie. Grazie. Sono andata a prendere i panini perché ho un amichetto di Christian a casa e quindi sono andata a prendere i panini perché mangiamo al mare. Quindi faccio i panini con affettati, carne e mi sto muovendo perché sono le 11. devo proprio correre. Quindi vado a casa, faccio i panini, ci mettiamo i costumi, andiamo al mare e mangiamo al mare. Solito tram tram, però bellissimo così. Va bene? Noi vi saluto. Spero di avervi fatto compagnia. Penso proprio di sì, dai. Anche se le mie giornate sono sempre le stesse, specialmente in estate. Cioè purtroppo quello è. Viviamo al mare, quindi vedete sempre il mare, tutti i giorni. Oggi avete visto magari qualcosa di diverso che non è il mare. Però non è vita questa è. Io vi mando un caro abbraccio. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.